Il mio vuole essere un omaggio, diciamo, a loro, ai matti di Gaeta, che spesso ci possono essere di ispirazione. E l'ho scritto come... l'ho scritto a Laimo, vi consiglio questo libro, è molto bello. Uno andava a dormire al cimitero. Una mattina una signora, mentre prendeva la scala per sistemare i fiori sulla lapide del marito defunto, si sentì apostrofare da una voce roca e profonda, All'inizio la signora ha avuto un momento di smarrimento, ha rimesso mano alla scala e di nuovo ha sentito A questo punto la signora credeva alle sue orecchie, è schizzata fuori dalla cappella, è corso a chiamare il custode, che dopo una breve ricerca lo ha trovato sdraiato in un loculo vuoto, molto in alto, che dormiva. Uno si chiamava Pasquale e per un certo periodo faceva il cantante. Si presentava ai matrimoni quando c'erano le solite orchestrine locali e siccome lo conoscevano tutti si faceva sette, otto canzoni per avere la scusa di partecipare al banchetto. Regularmente a fine serata se lo dovevano portare via in braccio. Una la chiamavano Maria la pazza da quando le era morto il fratello. Si sedeva sempre sulle scale del municipio e ogni tanto si levava una scarpa e la rilava addosso a uno dei politici di turno. Eppure se da lontanissimo era capace sempre di centrarlo in pieno. Poi un giorno dicono che la sorella era emigrata di Venezuela e tornata a casa e lei è l'insavita. Uno era Cianiello e chiunque lo chiedi ti dirà che era una vera e conaghetana. Indimenticabili le sue passeggiate sul colso col vestito da sposa, la pelliccia di Ratmuschi in pieno agosto, i bagni nella fontana davanti Barla Tristina, gli anelli sfalzosi. E poi la sua voce roca, le sue visioni mitologiche, l'incubo della maga Circe che ci avrebbe trasformato tutti in porci. Ora su Facebook abbiamo dedicato una pagina che vanta 1300 fan, più del sindaco. Una volta diverse lanciò in mare tutti i tombini di lungomare Caboto, uno appresso all'altro, mentre lanciava gridi di guerra contro Enea e contro i troiani. Una volta, con una scena che farebbe felice tutti i lecisti di questo mondo, entrò vestito da sposa e con una bandiera francese in mano nella chiesa di San Giacomo, proprio durante il rosario, tra lo sgomento e il divertimento di passanti e fedeli. Una volta piombò in una scuola elementare vestito da cowboy, con due pistole e giocattoli in mano, di fronte ai bambini che erano entusiasti. La sua frase simbolo, sempre ripetuta, era «La maga Circe vi trasformerà tutti in maiali, tutti i maiali». Sulla schiena aveva un tatuaggio. «Per non credere, ho sofferto». 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 «Per non credere, ho sofferto».